Oggi siamo qua su Mario Sport Mix, ovviamente con chi siamo? Ciao! Ovviamente siamo come mio padre in giro, bene allora, negli ultimi episodi praticamente abbiamo cercato in tutti i modi di vincere il torneo Sport Mix, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta e noi presupponiamo, anzi non presupponiamo, siamo sicuri che è colpa di questo personaggio di caccolina, oh mannazza, quindi ce ne proviamo ma questa volta non mi metto Peach io, ma mi metto magari Daisy, io prendo Yoshi, mi sembra che andiamo, ah no noi abbiamo sblocato Allora dove sta Yoshi? Io mi metto invece Daisy che magari è il migliore, bene allora iniziamo sempre, torniamo a stelle, in modo che vediamo un pochino come funziona, e niente di particolare, speriamo che questa volta palla a canestro ci esce subito e ce lo togliamo dalle scatole immediatamente, perché? Chissà? Siamo anche contro Luigi, quindi siamo diciamo contro mio marito, e c'è anche Mario, secondo me vince il Bowser, è abbastanza grosso, si sapeva, povero Toddino, va bene questo secondo me vince lo Slime, poi i dettagli, ecco vedi l'ha vinto, secondo me vince Mario o gli ossi, no ha bisogno gli ossi, comunque le tue so tre ne azzeccate, e adesso diciamo noi, ok, vai, dai pallacanestro, dodgeball, pure se sa dopo non mi importa, l'importante è che non è la finale, guarda, proficisco il mio, magari fosse il pallacono, magari, magari, non è la finale, ok, vai, picchialo, uccidilo, oh, no, cavolo, ah ma ti ho preso a te, oggi pensavo che non l'hai presa a me, vabbè comunque, oh, perché l'ho preso? vai, pre, chiedila, no, mannaggia, è già fuori, che devi, pensavo che dodgeball in realtà era molto facilino, invece non è vero, oh, dove cavolo sta tirando, con A ricordati se hai un, un coso, come si dice, oh, maledictus, vai, vai lì, vai su quell'interrogativo, passaci sopra, vai, bene, e ora con A, eh, tieni premuto A e tira, ok, boom, boom, si l'hai preso, si, hai preso anche Luigi, quindi hai preso due in uno con quella bomba, ho preso una bomba micidiale, ma, oddio l'ho presa, ma già, attenzione, papà, ma devi cliccare uno e due, forse, o B devi cliccare, no, ho preso uno, vorrebbe scanzarmi, no, allora, vediamo un attimo, vai, vediamo un attimo come prenderlo, cambio oggetto, attacco, finita passaggio, presa due, presa due, ah, presa due, il tiro allora, ecco perché perdi sempre, e mi stai facendo impazzire, vai, ok, 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 oddio, perché, no, perché? ma lo faccio passano? ah, ok, vai, ah, uff, oddio no, uff, 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 dai vai, ma l'ho preso, dai, vai, pino mai ciao mi ha visto di ciò non fa camminare ma il bus basta che parla o no attenta poco e non vuole non vuole capire la bomba della rara vuole il pistacolo un po' dava la presa eh si eh ti distrago il cadà no perchè a lui una click oh mannaggia e dai alzati e poi ti ha preso no no passa scusa eh ti vedo il tuo a ti è oh eh eh cavolo gliela hai anche fatto fuori comunque che ho pochissima vita e quanta luigi quanta cavolo che ha vabbè venendo sta fuori come vediamo cosa succede eh non so se ce la facciamo attenzione schivala hai cercato di schivala ho dato pure il suo piccolo attenzione mi ti metto davanti che tu no eh sì eh annaggia che fregatura eh ci ho provato ma non me la fa eh lo so io sto cercando di tp a ma non non so no stavo tirando io con a eh tieni premuto a ho detto tieni premuto a te l'ho fatto premuto a colpiscilo eh eh no a me si sto cercando di ok tieni uno che de ahahah ok tieni sempre premuto a sperto ok vai eh cavolo muo la colpino oh finalmente ha la nostra stessa vita e noi siamo due ok occhio eh ah no scusa muori muori oh ok mi sembra ah no ok l'abbiamo vinto quindi c'è ovviamente un altro set almeno il primo l'abbiamo fatto con un po' di difficoltà alcune volte ma comunque ricordati di applicare due quando te lo tirano con un oggetto schivala perché non puoi prenderla però quando non è con un oggetto vuoi wannaggia vai no la ripresa no io non so come quando fanno eh ragazzo con la bomba e go boom non ha preso nessuno د ok la passo a lui se vuoi diventa questo attenzioni uno schiuma e poi boom non l'ha preso ti è e non ho preso io faccio un attacco così ho avuto una paura comunque pensavo che l'ha fregato in una missile e sedere bene tira ok boom ma dai ora faccio vedere io mannaggia prendila no no guarda mi sono buttata non ci sono arrivato ok 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 no transonna transonna no mi la fa stile affatto capito che non posso salvarla ok però mi fai sempre più paura tranquilla tranquilla come hai ok tieni tutto e tu l'ha presa ma dai e lui è già fuori anche se tu hai pochissima vita io ne ho piena ma anche lui ne ha piena quindi io copro io copro sempre luigi mannaggia no vai vai fatela passare ma già non è possibile oddio che sedere mannaggia attenzione che qui scivoliamo carlo sei fuori io sì perché avevi poca vita uno contro uno video rientra lui no no io faccio così ti aiuto perché ho la possibilità eh volevi ok bene niente non c'è girata ho capito che stava di spalle che girava di spalle ma non la passa oh beh non la passava oh dio sarà un venendo eh tu sei girato ok con armi no oh perché la prende lui nooo non potevo ma guarda oh che sfiga vabbè uno a uno c'è un round decisivo non possiamo assolutamente sbagliare in alcun modo ragazzi è che purtroppo adesso inizia diciamo la preoccupazione la nostra più grande preoccupazione perché potremmo perdere facciamoli la volta le facciamoli è difficile è difficile purtroppo si ah già l'ha preso già lui io clicco e purtroppo non lo so eh lo so era un tiro molto fiato non lo so oddio per fortuna non ti ha preso non so come cavolo ha fatto ma mi sono felice nooo cavolo ce ne abbiamo già quasi metà la vita attenzione io sprevo per schivare faccio così non mi va purtroppo ho tutti e due no 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 sono uno purtroppo non so perché non mi va però oh manon oh mamma mia luisici fuori ebeh più di così non possiamo fare nulla un uccidio attenzione ti posso passare no 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 ok attenzione a luigi annaggia lo avevo distratto per ok per chi è data mia aspetta no no io ho passato con l'a si oh che cavolo non prende la palla visto perché tu non ti devi muovere quando te la tira quando te la tira capito ma dai mamma mia ma è arrivata a me ma dai non ci posso credere non ci posso credere oh mamma mia almeno mezzamila torta che cavolo era un mostro marino ok oddio attenzione no no l'ha tirata lui cavolo che stupido perché non te la può passare se sei a loro che definito aspetta che ti vede usa l'oggetto ti è vai muovere piccolo no tu comunque sei l'entrato a pochissima vita è impossibile che contro tu ci riesci eh a meno che non rientra luigi che mi stiamo attendo oddio no ma guardala io mi sono pure buttata l'ho fatto piccolino e subito mi ha colpito ok te la passo te la passo tranquillo oddio lo fa distrarlo lo fa distrarlo lo fa distrarlo ce l'ho da ok eh vai mannaggia oh no perchè è lui no dai matrizia e non la prende calma ah ah l'ho vinto non è giusto no no ragazzi non è giusto perchè io dico di fare una cosa e questa è difficile ma pure c'è proprio una cosa e ma stavi di spalle io l'ho visto che stavi di spalle e poi appunto io ho girato apposta sono girata e non mi ha dato lo stesso e non mai va bene ragazzi raggiungiamo i 35 mi piace la prossima volta 35 addirittura si l'abbiamo già fatti ok cioè neanche l'abbiamo già fatti però so che ci possiamo arrivare quindi quindi sono rabbia non lo so quindi pure questo ci comincia adesso non trappa la canestro allora io direi che possiamo fermarsi con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale e se ancora non l'avete fatto ciao a tutti iiii ciao a tutti